Seconda parte del TGNorva, ve l'avevo preannunciato, siamo in compagnia dell'attore e regista Silvio Muccino e dell'attrice Carolina Crescentini, insomma più noti come Benedetta e Sasha, i protagonisti di Parlami d'Amore, in 500 sale a partire dal 14 di febbraio, questa sera alle 21 al Cinema Galleria di Bari, ho dimenticato nulla Silvio? Perfetta, sei stato perfetta, tutto detto. Allora, questo libro ho scritto a quattro mani con Carla Vangelista, quindi una tua fatica sia come attore, come regista, anche come sceneggiatore e come scrittore, ce ne vuoi parlare? Sì, io sono semplicemente innamorato di questa storia, lo sono stato due anni fa quando ho conosciuto Carla e abbiamo deciso insieme di avventurarci nella scrittura di un libro, dopodiché i personaggi, Sasha e Nicole, avevano ancora molto da dire e ci siamo convinti che poteva diventare un bellissimo film e con questo amore, con questo entusiasmo ho intrapreso questa avventura per me molto ambiziosa di essere attore, regista, sceneggiatore di questo progetto, ma è un progetto che ho deciso di accettare solamente perché credo in questa storia moltissimo. Un viaggio nell'amore ma anche un viaggio nelle diverse età della vita ed anche nel modo differente in cui si vive l'amore. Sì, credo che l'amore differente è simile al tempo stesso in cui si vive l'amore nonostante i vent'anni di età che separano Sasha da Nicole e quelli che invece accomunano Sasha e Benedetta, perché in realtà credo che il film parli di amore ma anche dell'incapacità che noi abbiamo di vivere questo sentimento, è il nostro impedimento nel lasciarci andare. Beh, che poi tutti cercano l'amore ma trovarlo e viverlo soprattutto, perché trovarlo magari è un po' meno difficile, ma viverlo davvero forse lo è molto di più. Benedetta, tu sei l'ossessione ed amore di Sasha, ma poi diventi la sua sirena del buio. Sì, loro si conoscevano quando erano bambini, soltanto che negli ultimi dieci anni sono cambiate tante cose e Benedetta è diventata qualcosa di molto distante dalla bambina pura che ricordava Sasha e quando entrano in contatto lei lo trascina nel suo mondo che è fatto di eccessi, di imbarazzi degli altri, insomma un'atmosfera abbastanza torbida. Per entrambi com'è stato per te Carolina essere diretta da Silvio e per te invece con questo cognome importante, definiamola anche un po' pesante dai. Non si può dire. Non si può dire. No, no, si può dire, si può dire. No, si può assolutamente dire. Però un'eredità pesante che tu riesci a portare benissimo tra l'altro e non è da tutti, e come è stata la tua esperienza da regista e come è stato per Carolina essere diretta da te? Ma io posso solo dire che la regia era una cosa che mi spaventava ovviamente anche per quegli ovvi motivi che hai detto te. Credo che però un film del genere non lo fai né per ambizione né per dimostrare qualcosa a qualcuno, lo fai perché credi nella storia che vuoi raccontare e perché pensi di poterla raccontare bene. E io credo che per Parlami d'Amore ho scelto consapevolmente di correre un rischio, che era quello dell'ovvio confronto, anche se il film va tutto in un'altra direzione. Lo sento molto personale come storia e come film. Per te Carolina essere diretta da Silvio che cosa ha significato? Per me è stata un'esperienza stupenda. È un'esperienza che porterò nel cuore e che allo stesso tempo mi ha insegnato tante cose come attrice perché lui è un regista molto meticoloso, molto attento e non si accontenta mai. Avere una persona che ti spinge a scavare in continuazione è la cosa più bella che ti può succedere. In base alle vostre esperienze personali, poi chiudiamo qui, rinnoviamo l'appuntamento con voi, che cosa vi sentite di dire ai vostri coetanei che hanno difficoltà a rapportarsi con l'amore? L'unico modo per ricordarsi di essere vivi è rischiare, quindi è inutile mettersi su una poltrona comoda perché quando ti renderai conto che ti sei annoiato per tanto tempo è troppo tardi. Silvio? Lasciarsi andare, buttarsi e fondamentalmente mi sento di dire quello che dice Nicole a Sasha e cioè che l'amore basta per essere felici. Beh, io non posso che essere d'accordo, naturalmente San Valentino, 14 febbraio, parlami d'amore, naturalmente Silvio Muccino e Carolina Crescentini. Questa sera l'appuntamento è alle 21 al Cinema Galleria con i nostri protagonisti. Grazie per essere stati con noi, noi invece adesso restate qui in mia compagnia. Vediamo un servizio su Antonio Cassano, il campione barese si è confessato a Fabio Fazio.